Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo a Call of Duty, riguardo alla crash sul gioco, riguardo a questi errori 0x0 e altri codici che seguono. Quindi per risolvere così il problema andiamo direttamente a barra della circa per scrivere direttamente applicazioni, installazione, vai su applicazioni, installate, vai così a cercare il tuo Call of Duty. Ed eccolo qua, vai sui tre puntini, vai su opzioni avanzate per modificare così le impostazioni sull'applicazione, qui c'è scritto reset quindi ripristino e facciamo direttamente ripara. E ripariamo il gioco. Se in questo caso non dovesse funzionare puoi semplicemente disinstallare l'applicazione e reinstallarlo. Ora se lo tieni direttamente su Xbox Game Pass vai direttamente su Call of Duty e facciamo la stessa cosa anche sulle applicazioni che abbiamo fatto su Windows. Quindi vai direttamente su personalizza delle impostazioni avanzate, vai su file. Vedi se devi fare qualche aggiornamento sull'applicazione. Oppure vai direttamente su verifica e ripara. Facciamo così la verifica di integrità dei file come si fa su Steam e facciamo sì. E farà una riparazione e scaricherà così vari file per il gioco in caso mancano nella sua cartella. Ora andiamo direttamente sul nostro PowerShell, Windows PowerShell e segui come amministratore. Vai ad inserire così il link che ti ho lasciato in descrizione, quindi questi comandi da inserire sul PowerShell. Ed eccoli qua. Copio così il primo. Faccio copia e lo inserisco qua. Una volta fatto inserisco il secondo. Si aprirà così in Microsoft Store i servizi di gioco di Xbox Game Pass. Vai install. Una volta installato così i servizi di gioco di Xbox. Chiudi un attimo qua. Qua puoi anche scrivere direttamente Exit. Salvo. Vado direttamente sulle applicazioni. Installazione applicazioni. Vado a trovare così Xbox. Tre puntini. Opzioni avanzate. Fare imposta. Faccio così il ripristino alle applicazioni. Se non dovesse funzionare. Quindi reimposto anche qua sotto. Se non dovesse funzionare. Faccio direttamente Disinstall. E vado a reinstallare di nuovo questo servizio. Faccio Disinstall. Tutto un attimo qua. Vado su Microsoft Store. E vado a reinstallare Xbox. Sto facendo vedere questa parte dell'Xbox. In caso tu stai giocando quindi sull'applicazione Xbox a Call of Duty. Ora una volta fatto. Apri il gioco su Xbox. Se non dovesse funzionare o lo tieni su Steam. Andiamo direttamente su Steam. Direttamente sulla rotella. Vai su proprietà. File installato. E fai la verifica. Integrità dei file del gioco. Una volta fatto. Esegui il gioco direttamente nella sua piattaforma. Quindi uso Steam su Xbox. Se invece pulini sul desktop. Avvialo come amministratore. Quindi tasto destro sull'applicazione. Esegui come amministratore. E ora non ci resta che avviare il gioco. Come puoi vedere il gioco si sta avviando senza nessun problema. Senza nessun errore riguardo a quei codici. E non sta avendo problemi di crash. Quindi lo sto aprendo. Si sta caricando. E non si chiude da solo. Quindi il gioco è andato. Perfettamente. Per altri problemi ancora. Puoi guardare le altre guide che ho realizzato su Call of Duty. Una playlist intera. Plina di guide su Call of Duty. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.